Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della Rassegna Stampa di sabato 15 gennaio. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina il titolo muore affrontando il fuoco. Si tratta di una tragedia consumatasi a Farra di Feltre. Ivan Gaio, 52 anni, uomo della protezione civile Ana, era uscito dal lavoro alla notizia del rogo nella legnaia del suocero. Lascia moglie e due figli. I pompieri erano impegnati in un altro rogo. Il Corriere delle Alpi presenta anche una immagine dei vigili del fuoco arrivati da Belluno mentre spengono le ultime fiamme nella rimessa di Farra di proprietà del suocero della vittima che è stato investito da fumo e fiamme e che gli sono state fatali. Un volontario sempre presente con mozione tra le penne nere alle cui attività partecipava Ivan Gaio, la vittima. Era una persona squisita, dice il presidente dell'Anna Feltre, Stefano Mariek. Questa la notizia di apertura del Corriere delle Alpi che nelle prime pagine approfondisce il tema della emergenza sanitaria. Mille morti in tre giorni ma la pandemia rallenta. Picco già in settimana. Primo via libera alle regioni sullo scorpero degli asintomatici dal conto dei posti letto. L'ordine dei medici questo è solo maquillage. Val d'Aosta in zona arancione. La richiesta delle regioni è di non considerare i positivi asintomatici ricoverati come occupazione di posti da parte di pazienti Covid. Cioè si tratta di quei pazienti ricoverati per altre ragioni e che sono anche positivi. C'è dibattito su questa richiesta, su questa tematica, come anche se percepito dai titoli proposti quest'oggi dal Corriere delle Alpi. Andiamo a quella che è la situazione della provincia di Belluno. Recovery Covid in aumento. Attività ordinaria a rischio negli ospedali. La direttrice generale dell'ULS, Carraro, l'equilibrio ormai è molto fragile. Il rischio contagio per i non vaccinati è cinque volte quello di chi ha la terza dose. Scuole. In un giorno 33 classi finiscono sotto osservazioni. Preoccupa un po' la situazione e questo è avvenuto il 13 gennaio. In totale oggi sono, a ieri, erano 73 le classi delle scuole bellunesi sotto osservazione. Oggi e domani tamponi liberi alla struttura di Paludi. E sempre oggi e domani sono state organizzate anche due sedute vaccinali, oggi a Sedico, domani a Feltre, per i ragazzi tra i 5 e gli 11 anni. Il Corriere delle Alpi cambia poi tema e dedica alcune pagine al tema della elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Berlusconi scalata al Curinale. Salvini e Meloni sei il nostro candidato, ma vogliamo i numeri. Il leader di Forza Italia, con questa sfiducia, difficile trovare voti. E Draghi sonda Gianni Letta. Tutto dipende da cosa fa Silvio. Prima del vertice, colloquio di un'ora a Palazzo Chigi, tra l'uomo di fiducia di Berlusconi e il capo di gabinetta del Premier. Il leader furioso, non ne sapevo nulla. I sospetti dentro Forza Italia sulle mosse del fedelissimo e le sue ambizioni per il colle. E poi il muro di Letta e Conte, via impraticabile. PD, 5 Stelle e sinistra radicale sono compatte nel respingere il nome di Berlusconi. Il leader dei 5 Stelle si bloccherebbe l'Italia. Come si vede, la partita è appena all'inizio e in attesa della prima chiama, della prima votazione prevista per il 24 gennaio. Una pagina poi viene dedicata al funerale di Stato di David Sassoli. Da Mattarella a Draghi, a von der Leyen e Michel, le istituzioni si inchinano a Sassoli. Se ne va un grande europeista. Lunedì il tributo a Strasburgo con Letta e Macron. Lasciamo le pagine di carattere generale del Corriere delle Alpi per arrivare a quelle dedicate alla provincia di Belluno che si aprono con un focus, con un approfondimento sul commercio a Belluno partendo dalla notizia dell'apertura di un nuovo market. Nuovo market, il nodo viabilità. Questo è il punto più critico. Residenti preoccupati per il traffico che già soffoca via Vittorio Veneto. Lunghe code e smog. Ma l'apertura di un nuovo supermercato pone anche il problema della sopravvivenza dei piccoli negozi. E c'è un intervento del sociologo Diego Cason. La guerra dei marchi produce una crescita insensata dei supermercati che per farsi concorrenza finiscono poi per mettere in grave difficoltà i negozi più piccoli, quelli di vicinato perché i supermercati occupano, diciamo così, tutto lo spazio. In una settimana venduti 9 litri di latte. La lotta quotidiana dei piccoli per resistere. Il Corriere delle Alpi sente alcuni di questi piccoli negozianti. In città rimangono pochi alimentari, fuori dalla grande distribuzione. Ci differenziamo con servizi ai clienti e prodotti di qualità, ma è dura. E effettivamente è certamente importante cercare di tutelare questi piccoli esercizi che significano anche vitalità per i piccoli paesi, per le frazioni. Incendi boschivi. La Regione aggiorna il piano. Dopo vaia il fattore rischio è aumentato. L'assessore Bottacin. Nella zonizzazione c'è tutto il bellunese. Nuove procedure per interventi più rapidi ed efficaci. Alberghi. Nuovi contributi per riqualificare le strutture da parte della Regione. Assegno unico. Misura contro lo spopolamento. Dal lunedì prenotazione della CIS per la presentazione delle domande. Paglini, il segretario, fino all'anno scorso 3.000 richieste. Ora la platea si è ampliata. Il CAI Belluno festeggia i 130 anni con una mostra di foto e racconti. Oggi l'inaugurazione al centro Pietro Rossi. Sarà visitabile per un mese. Pronto il marciapiede a Mier più sicurezza per gli studenti degli istituti Calvi e Renier. La provincia ha risposto alla denuncia di professori e autisti della Dolomiti Bus sui pericoli davanti alle scuole. Ed eccoci a Feltre. Fusaro. C'è un primo nome sullo scacchiere elettorale in vista delle elezioni comunali. Alla guida della lista per Feltre ha ereditato dal papà Leandro la passione politica. Mi prendo l'impegno di far sì che tutti si sentano orgogliosi di essere Feltrini. Questa è una dichiarazione di Viviana Fusaro. Bisogna perseguire obiettivi ambiziosi. Ma per farlo occorre giocare di squadra. Questa un'altra delle sue sottolineature. E poi c'è la pagina di approfondimento sulla vicenda tragica della morte di Livio Gaio scusate di Ivan Gaio a causa del fumo e delle fiamme nella rimessa del suocero. Corre a casa per spegnere l'incendio e muore investito da fumo e fiamme. La moglie Cristina e i vicini hanno tentato di farla desistere in attesa dei pompieri. Le penne nere sono in lutto Ivan, un volontario speciale. Era capo squadra della protezione civile Anna di Feltre nella quale era entrato da ragazzo. Croce da un asservo già appaltati i lavori per allargare la strada. Il sindaco dalla torre mettiamo rimedia a un tratto molto stretto. C'è il via libera anche alla soluzione dei problemi di sorriva. Scuola dell'infanzia di Maras nuovi lavori per l'ampliamento. Siamo in comune di Sospirolo. Ha incorso l'iter degli espropri per la realizzazione dell'atteso parcheggio. Il comune intanto pensa ad aumentare gli spazi interni e a rifare le cucine. Attesi per telefonare ai medici sale la protesta tra gli utenti a Longarone. Fioccano le lamentele sui social per la difficoltà di parlare con i dottori del LUTAP. L'assessore invita alla pazienza. Riceviamo 1500 chiamate al giorno. Gruppo De Riga e Superga lanciano un'alleanza per gli occhiali giovani. Un nuovo marchio per il gruppo. Trentino Trasporti taglia i bus. A terra i turnisti di Luxottica del Primiero. La sospensione da lunedì delle linee per i pendolari annunciata solo ieri mattina. Insorgono i sindacati. Impossibile arrivare al lavoro per chi è senza patente e automobile. Visite guidate per famiglie al museo in Marmolada. In questo caso la notizia viene dal comune di Roccapietore. Ma siamo a Cortina. Concorso tra studenti per nome e volto della Mascot 2026. Le migliori proposte saranno sviluppate da professionisti. Sangremo 2023 presenterà al mondo l'idea vincente. International Motors Day tanta adrenalina ma anche sicurezza ed educazione stradale a Cortina. Pieve di Cadore Brida diventa vicesindaco. In giunta entra da Cortà Fumei. Risolta la crisi in comune determinata dalle demissioni di Campi e Zandonella. Il primo cittadino a breve la nomina anche dell'altro assessore. Santo Stefano di Cadore giù l'ex caserma Calvo. Spazio alla casa di riposo. Ma prima di tutto va messa in sicurezza l'area intorno al Padola e i soldi già ci sono. e dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno che si apre con il titolo sulla tragedia del volontario Ana della Protezione Civile morto ieri a causa del fuoco rimessa a fuoco muore carbonizzato la tragedia ieri a mezzogiorno a farra di feltre l'uomo è entrato con un istintore nel disperato tentativo di salvare gli attrezzi ma e le prime due pagine del Gazzettino di Belluno sono dedicate proprio a questa tragedia Ivan Gaio operario di feltre con un istintore è entrato nella baracca in fiamme e non è più uscito era accorso in aiuto del suocero l'ex falegname Sanson che voleva recuperare i suoi attrezzi l'incendio sarebbe partito da una stufa l'uomo è morto soffocato dal fumo ora lo stabile è sotto sequestro aiutava tutti con grande coraggio non si è voltato di fronte al fuoco questo uno dei commenti di chi lo conosceva dipendente della piave Maitex il ricordo degli amici in prima linea convaia andò anche a Bergamo nell'emergenza Covid ho provato a fermarlo ma era sicuro di farcela il disperato tentativo del vicino di casa che ha dato l'allarme di bloccare Ivan eravamo riusciti a tenere fuori Sergio il suocero ma poi il genero è entrato i pompieri erano impegnati altrove a Santa Giustina per altri allarmi altre emergenze pochi minuti prima la chiamata al distaccamento di Feltre per una dependence in legno a fuoco se non fossero andati lì sarebbero potuti arrivare in pochi minuti evitando la tragedia che si è consumata a farra di Feltre sulle pagine del Gazzettino segue poi la trattazione della tematica dell'emergenza sanitaria dopo quattro giorni contagi in 73 classi si tratta di quattro giorni dalla apertura della scuola dopo le vacanze di Natale il conto infatti risale a giovedì 13 gennaio quando appunto 73 classi delle scuole bellunesi erano sotto osservazione e prese in carico dal dipartimento di prevenzione dell'UJ Dolomiti la direttrice generale Carraro escalation importante che riguarda le fasce d'età con minore copertura vaccinale sottolineato anche il fatto che 4,5 positivi ogni 1000 abitanti tra chi ha la terza dose 25 su 1000 tra i non vaccinati ci sono posti disponibili e prenotabili per i vaccini uno spreco non usare queste risorse una delle sottolineature proposte ieri dal direttore generale della ULS dalla direttrice generale della ULS adesso si muore di meno ma 4 su 10 necessitano di assistenza respiratoria il primario della pneumologia di Feltre Calabro nel mio reparto 6 pazienti su 10 non hanno neppure una dose negli ospedali operatività a rischio valutiamo giorno dopo giorno la sanità bellunese se aumentano i ricoveri diventa impossibile continuare con il resto la linea è in costante aumento e non ci lascia tranquilli la via d'uscita è la prevenzione questi un po' i titoli proposti dal gazzettino per fare il punto sulla situazione covid in provincia che segna sempre un importante aumento di contagi con tutte le conseguenze che questo può determinare anche appunto sui ricoveri e sulla funzionalità delle strutture ospedaliere provinciali ma cambiamo argomento parliamo di lavoro nuove assunzioni a picco occhiali meno 30% turismo meno 22% i dati di Veneto lavoro dopo lo sblocco dei licenziamenti fotografano i timori i lavoratori dipendenti sono calati del 3% e del 2% quelli indipendenti la cassa integrazione ha permesso di rallentare gli effetti della pandemia sulla occupazione la CISL assegno unico aiuto per 59.000 nuclei familiari bellonesi il segretario Paglini ci allineiamo così al resto d'Europa che ha pronti per le prenotazioni per chi intenda farne richiesta si parte da 175 euro per figlio per chi ha l'ISEE sotto i 15.000 euro poi mano a mano che cresce l'ISEE l'assegno diminuisce di entità le dimore storiche risorsa per i visitatori bellezze e imprese due termini che rappresentano al meglio il territorio ci sono anche tre ville venete della provincia di Belluno tra quelle selezionate per un progetto che tende a sottolineare l'integrazione tra queste ville e le aziende agricole loro vicine nella modellazione anche del paesaggio che rende per tanti aspetti così attrattivo il nostro Veneto fondi cultura a Borgo Piave il comune si candidi l'associazione l'area risponde ai requisiti richiesti dal nuovo bando non viviamo lo spopolamento abitativo ma quello commerciale servono progetti sottolineano da Borgo Piave di Belluno posto del disabile occupato la neve è ancora in sosta la denuncia di Adamiano dei fratelli d'Italia sulla sicurezza fratelli d'Italia si schiera con l'ASCOM sono due anni che evidenziamo questo problema siamo alla pagina di Feltre mi candido mi ispirerò a mio padre parole di Viviana Fusaro preside Feltrina in pensione ufficializza la sua deciso in campo alla guida della città di Feltre il padre era Leandro Fusaro fu un deputato di C e poi a livello locale presidente dell'ospedale e primo cittadino caserma indagine sismica sulla ex mensa poi gli investimenti per adeguarla con contributo regionale il comune ha affidato l'esame sulla struttura a un professionista si tratta sempre del comune di Feltre sanificazioni e costi alti servizi al lago a pagamento in alpago l'ipotesi al vaglio della giunta Petterle che sta valutando di far pagare la toilette il comune investe 160.000 euro in pulizie anti-covid dei municipi ed edifici pubblici agordo associazioni e asili pioggia di contributi la giunta Chissalè ha varato gli aiuti ai sudalizi e alle scuole concesse 17.000 euro ai vari gruppi di volontari 40.000 euro per maggiori spese al nido e materna viaggio nelle scoperte dell'archeologo frescura i tesori della valbelluna l'incontro questa sera a palazzo delle contesse nell'ambito della mostra nuovo corso sui cantieri edili la prima iscritta è una ragazza presentato alla scuola di sedico il percorso che partirà a febbraio adrenalina a tutta per tre weekend iniziati ieri i motor days a cortina poi lo sci con le migliori velociste del mondo e quindi il ritorno del circo dello snowboard questi i tre weekend che animeranno cortina d'ampezzo l'evento automobilistico del motor days ha dato spettacolo a Fiammes dove prosegue oggi proponendo esibizioni anche in centro la giunta a casa grande di Pieve di Cadore si riassesta con Britta e da Cortà vice sindaco il primo il secondo assessore allo sport e al turismo si tratta di Andrea da Cortà e Plinio Britta torna il sorriso sul volto di Lisa Vitozzi bella reazione dell'atleta di sci di fondo dopo la prova disastrosa di mercoledì ieri la sappadina è andata fortissima nella prima frazione della 4x6 Italia alla fine al sesto posto partono oggi i mondiali di De Silvestro a Lillehammer René vuole il podio nel super gigante in questo caso si tratta di sci paralimpico spinta carente Gaspari in ritardo a Saint Moritz nello skeleton tredicesimo alla fine della prima discesa Mattia conclude al diciassettesimo posto dietro l'altro azzurro Amedeo Banis si chiude qui questa edizione della rassegna stampa a tutti voi il più cordiale a risentirci a risentirci